buongiorno eccoci qua io con le mie orecchie da gatta stupende rosa allora oggi vogliamo partire prima da qui facciamo guardate cosa ah ah il video acquisti tiger allora io volevo andare da tiger perché volevo la sirena della nuova collezione però mi è stato detto che praticamente è andata a ruba quindi nel caso arriverà perché non sa come se non sapeva se tornavano nel caso arriverà mi chiameranno eventualmente poi ve la farò vedere allora abbiamo preso da tiger questo sarebbero dei memo pad però li utilizzerò come magari anche come memo pad però anche come segnalibro anche se è un peccato utilizzare perché è una fetta di torta gigante buonissima peccato che non è commestibile esatto questa l'ho pagata l'ho pagata l'ho pagata l'ho pagata 2 euro poi questo questo qua se volete vi ci faccio un video sopra è un mosaico dove appunto ritrae un unicorno ovviamente vedete qui ci sono le istruzioni e questo l'ho preso a 2 euro scritto mosaico fai da te bellissimo poi eventualmente ci farò un quadretto e si può appendere poi questa allora questa qui è una stella marina viscida 2 euro anche per questo 2 euro l'ho vista nel video di corin martineo non so se qualcuno la segue l'ho visto nel suo video quindi ci ho detto mia sarà e quindi l'ho presa per cortesia 2 euro poi abbiamo questo uovo di dinosauro a 1 euro 1 euro dentro c'è ci sono i dinosauri è un po' come lo slime con la stella marina ci sono appunto di dinosauri e dentro c'è lo slime come potete vedere poi magari lo apriremo in un altro video e questo costava 1 euro poi 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 l'ultimissima cosa e secondo me è una bomba è diverso non è una cosa ma è una bibita questo è il latte al cioccolato che costa 2 euro ne ho preso 2 ok una l'abbiamo tenuta appunto per noi e una l'assaggeremo adesso allora metti nelle tazze c'è qualcuno dietro che mi sa che vuole assaggiare qualcos'altro ovviamente intrusioni in retro vai metti nelle tazze aia e niente questa è l'ultima cosa appunto che avevamo preso da tiger come è dall'odore sembra molto buono però l'ha presa mi ha fatto venire io gli ho detto a lui prima pensa te se beviamo questa e dentro ci inzuppi che ne so i panni di stelle mi viene fuori una figata aspetta a valare ragazzi andiamo a vedere assaggiamo si ragazzi è buonissimo è buonissimo sa di Nesquik è come ecco non so se vi è mai capitato di prenderlo al supermercato e col sapore è comunque uguale che è buonissimo è Nesquik latte con Nesquik dentro è proprio un spettacolo un sapore spettacolare poi il freddo è buono eh in questo caso mi mette la mia tazza lì frozen con Olaf io amo frozen prezzo al supermercato eh per cui ragazzi buonissimo questo latte cacao il voto direi che è un 10 anche con la lode perché merita ve lo consiglio assolutamente ma soprattutto questa sono stra consigliate questo mi sa che avrà vita breve con te sicuro guarda io amo la cioccolata in ogni forma quindi quindi questo qua ve lo stra consiglio se lo trovate da Tiger prendetelo a 2 euro perché è una bomba ragazzi è buonissimo se amate Nesquik è un'alternativa esatto volendo potete anche scaldarlo appunto farlo come il latte la mattina se volete ma pallina bene con questo è infinito e niente ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie a tutti